Sono del 2006-2007, per cui ho 11-12 anni e sono molto giovani. Una baby gang composta da giovanissimi, alcuni di loro nemmeno 12 anni, sarebbero loro i responsabili della devastazione all'asilo di Camucia, messa a segno lo scorso 2 aprile, nel giorno di Pasquetta. Sono entrati dalla porta del retro dell'asilo e a quel punto avevano accesso alla mensa, dove hanno preso anche il pomodoro o altro cibo che hanno sparpagliato per le aule e poi sono passati da lì a tutta la struttura, sfasciando e distruggendo tutto ciò che incontravano. A smascherare i giovani vandali, i carabinieri della compagnia di Cortona, assieme ai militari della stazione di Camucia. Le indagini sono svolte nel modo classico, ovvero andando a ricostruire una linea temporale degli eventi, andandolo quindi a posizionare in un determinato giorno, perché eravamo sotto Pasqua, per cui era importante capire quando fosse successo. A quel punto ci siamo basati anche con l'aiuto delle testimonianze di chi ha fatto il primo intervento, quindi i colleghi della Municipale di Cortona, e andando a ricostruire un po' tutto il contorno tramite un'attività tecnica e invece classica di testimonianze. Quattro in tutti i ragazzi, tre di origini tunisine ed uno di origine albanese, denunciati per naneggiamento aggravato ed interruzione di pubblico servizio. Uno dei quattro è maggiorenne con precedenti. Potrebbero aver frequentato l'asilo perché sono della zona. I giovani non avrebbero però colpito da soli, la minibanda sarebbe infatti composta da più persone, almeno otto. Il fatto è stato sicuramente già stigmatizzato, però è importante che ci sia nell'ecoscienza di ognuno il fatto di salvaguardare i beni comuni, soprattutto la scuola dell'infanzia. Per cui sicuramente se si facessero avanti facendo un mea culpa verrà valutato positivamente anche per le indagini che stiamo facendo. I ragazzi identificati, minori di 14 anni, non sono imputabili. I militari dell'arma adesso restano dunque in attesa delle disposizioni per poter procedere dal Tribunale dei minori di Firenze. Adesso sono stati denunciati per cui sicuramente bisognerà sentirli, dopodiché bisognerà concordare e valutare come procedere successivamente anche in base alle altre emergenze che ci saranno nei prossimi giorni per andare a ricostruire l'intera banda.